Benvenuti cari criptoaffezionati in questo nuovo video con un altro progetto che stiamo seguendo da un po' di tempo che ci ha fatto un po' traballare perché gli ultimi progetti che avevano lanciato su questa rete sono stati un po' diciamo borderline però ecco è un altro progetto che ha raccolto sicuramente tanto, che ha tante comunque interazioni in questo momento e specialmente ha una TVL molto interessante stiamo parlando proprio di Blast perché Blast sta lanciando continuamente comunque progetti o perlomeno continuano a lanciare progetti proprio su Blast e la TVL sta sempre crescendo proprio per un discorso legato al farming principalmente dell'Airdrop però è anche vero che comunque gli sviluppi sono tanti quindi questa cosa è molto interessante passiamo a schermo e scopriamo cosa dobbiamo fare per poter aumentare il nostro punteggio sulla rete di Blast Benvenuti quindi criptoaffezionati su Blast come abbiamo già visto comunque tempo dietro su questo progetto dove avevamo comunque depositato sul bridge scusatemi sul primo deposito dove si faceva il bridge da Ethereum a Blast ora per portarli indietro ci sono un po' di fees di Ethereum quindi bisogna valutare un po' bene se questa cosa qua può convenire oppure no perché non è proprio il massimo come fees ora come ora sono ancora alte sopra i 70-80 dollari per portarli fuori quindi ovviamente dovete avere molto di più per poter portarli o comunque prenderli o addirittura comunque aspettare che si abbassino le fees allora quello che andremo a vedere comunque di Blast oggi sarà una panoramica su alcuni progetti sia nella fase di early access quindi quelli nella fase mainnet che la maggior parte sono ovviamente in mainnet allora come ho detto Blast non è un progetto che sto particolarmente farmando sto farmando il giusto senza comunque andare ad esagerare perché secondo me c'è comunque tanta utenza che ci sta farmando perciò ecco ho preferito concentrarmi su altro però è giusto che vi porti comunque quello che io personalmente in questo momento sto facendo come task più o meno non dico giornaliere ma un giorno sì, uno no o due no di solito è quello che faccio con Blast allora che cosa andiamo a vedere? la prima cosa che andiamo a vedere è su proprio Galax perché dico Galax? perché all'interno di Galax ragazzi c'è Blast Takeover qua c'è la Blast Mainnet Takeover quindi qua potete già trovare tutti, tutti i progetti comunque affiliati a Blast ok qua in mezzo in realtà adesso è tutto Mainnet appunto come c'è scritto qua sopra ma mi sembra ci sia ancora qualcosa di testnet oppure li hanno tolti, vediamo un po' no ok dovrebbero essere stati tolti tutti quelli della testnet e quindi qua trovate tutti i main sulla parte della Mainnet quindi già qua potete guardarveli in lungo e in largo comunque come volete però ce ne sono alcuni ancora un po' in fase early come ad esempio YOLO Games YOLO Games quello che dovete fare qua è semplicemente proprio un'interazione comunque con quelli che ci sono dentro ok con quelli che diciamo i giochi che sono già specifici all'interno comunque del progetto c'è anche la parte della lotteria dove potete comunque provare a partecipare vedete qua, qua andate Enter Draw e decidete appunto di prendervi un qualcosa però dovete avere ovviamente i ticket i ticket li potete avere depositando o comunque partecipando all'interno dei games ad esempio su YOLO vediamo un po' se me lo apre anche perché devo essere sincero ogni tanto mi buggano come non mai quindi non è che vadano proprio al massimo ok questo è riuscito ad andare vediamo un po' quindi ecco qua avete questo via qua avete appunto la specifica dove sono tutti i punti quindi quanto c'è la possibilità di vincere Easter adesso in questo momento ha il 62% della pool e ci ha messo dentro 0.33 Ethereum e qua dovete entrare quindi qua voi andate a cliccare quello che volete e depositate il quantitativo che volete per entrare dentro questo gioco ecco sostanzialmente è un gioco un po' non lo so io non lo farei mai sinceramente però ogni tanto ci sono dei giochini un po' più semplici dove non richiedono grosse spese e quindi si può provare in alcuni match per vincere qualche rewards però ecco più che altro serve per fare interazioni quindi anche se magari non si va a vincere però c'è un qualcosa che si può tirare fuori come interazione con un contract nuovo per ogni gioco ok quindi questa è la parte che secondo me può essere interessante però come avete visto è la parte di mainnet c'è la parte qua che è ancora in alfa come vedete che è di metaverse HQ dove voi dovete andare semplicemente a registrarvi in questo caso quindi sign in to participate dovete segnalare comunque il vostro wallet collegarvi tramite il vostro wallet adesso lo facciamo quindi connessione da qua fate la firma quindi firmate per entrare all'interno ed eccoci qua che poi dovete fare tutte le tasche che vi richiedono e poi quindi andare a continuare comunque le interazioni con quello che esce fuori quindi partecipare alle allow list i mint dei vari NFT e quindi questa è un'altra parte che si può andare a fare in questo momento questo juicy finance è finito però è la piattaforma sostanzialmente di metaverse Q con le quali potete andare appunto a partecipare ad esempio questa MVHQ finisce in 6 giorni quindi andate a provare questo oppure anche questa parte qua del Berachain Farming Volume 1 potete andarlo a fare quindi utilizzando la rete di Blast su quelle che richiedono ovviamente Blast come vedete anche qua LogX che finisce in 9 giorni eccetera eccetera è sempre una specie di chiamiamolo GALX mainnet con delle cose in più perché se vedete anche questi progetti ci sono già anche su GALX quindi sono semplicemente dei passaggi in più con meno partecipanti rispetto a GALX ovviamente poi successivamente abbiamo Wasabi Wasabi è una di quelle piattaforme su Blast che sta comunque ci sta posizionando perché qua sopra si possono andare a tradare come vedete anche le collezioni anche le collezioni di NFT quindi Mike, Bike insomma tutte le collezioni NFT più famose potete andare a fare dei trade direttamente quindi comprare delle parti quindi delle piccole delle micro parti di questi NFT e quindi tradare un po' il loro valore come vedete vabbè i Mike ormai non è che stiano andando proprio bene però qua semplicemente potete andare a utilizzare anche una leva fino a 5x in questo caso potete andare a posizionarvi e poter creare volume quindi in questo caso la parte importante è il volume sul progetto scusatemi di Wasabi all'interno c'è anche la parte Earn eccolo qua dove potete mettere sempre in Stake adesso vediamo un po' il Volt eccolo qua quelli che andate a prendere comunque dal trade potete andare a wrappare poi qua dentro e depositarli quindi se vedete i Micro Mike diventeranno V Micro Mike sostanzialmente questo è quello che potete fare e quello che potete ricavare come percentuale io personalmente non lo sto facendo perché mi sto limitando ad aprire delle operazioni sui trade e basta quindi niente di nient'altro perché preferisco non andare a dilungarmi troppo su queste cose quindi rischiare troppo secondo me già il trade è abbastanza rischioso i volumi non sono enormi a livello di scambio quindi su cose anche del genere bene o male potete fare dei trade molto veloci per prendere un po' di volume molto semplice poi successivamente c'è la parte di swap la parte di ring swap per la precisione se vedete l'interfaccia è praticamente come uniswap sostanzialmente potete andare ad utilizzare le testnet ma principalmente la blast mainnet in questo caso dove andare a fare degli scambi semplicemente degli swap quindi andare a scambiare Ethereum per questi altri token che ci sono o USB oppure andare a mettere della liquidità in pools o anche nella parte degli earn che non c'è tantissima liquidità nel senso non una liquidità enorme però la cosa interessante in questo caso è che danno i point quindi danno i punti sia per blast e quindi questa è la parte interessante dove voi lasciate dentro della liquidità decidete voi comunque su quale andare in questo caso quello migliore sono o ETH o VTH a livello anche di rilascio dei token e anche a livello di capitalizzazione perché comunque TVL è già più alta parliamo di 102 milioni quindi la cosa è un po' più tranquilla rispetto ad altri che hanno 8000 e diventa un po' un po' rischioso ecco quindi secondo me è meglio puntare su cose del genere e qua potete anche poi vrappare i vostri i vostri token però io non mi sto disperdendo su queste cose swap una parte in earn con ETH e basta giusto per lasciarle li accumulare appunto punti successivamente abbiamo invece AllSpark AllSpark allora qua non c'è ancora niente perché su trade come vedete c'è Duel che cos'è Duel Duel praticamente c'è il prezzo quindi il prezzo di Ethereum in questo caso ok voi dovete andare a sostanzialmente puntare posizionarvi che il mercato vada in up o che vada in down quindi io metto uno per con 10 dollari ok vediamo un po' se me li prende 5 dollari 1 dollaro non me lo prendo non so perché ah ma perché non ce li ho ovvio ovviamente non ho gli usdb quindi non me li conta comunque 5 dollari in 10 per per dire e mettete long il tempo che passerà poi mi sembra che siano sempre un 3 minuti all'incirca se se segue appunto la vostra la vostra posizione voi poi prenderete ovviamente come ritorno quindi come guadagno in questo in questo caso non è facile non è facile perché sono delle price prediction quindi non è che la cosa mi garbi molto eccolo qua 40 minuti scusatemi questo che poi è il cambio ogni volta ed è solo su ethereum quindi valutate valutate voi se farlo io ogni tanto lo faccio lo faccio giusto per creare un po' di interazione e specialmente perché se vedete è comunque ordinato tramite l'oracolo di pit che quindi potrebbe venire fuori qualcosa di interessante come come valutazione però niente niente più ecco non faccio nient'altro se non appunto partecipare dentro questa questa price prediction poi successivamente c'è blaster che avevamo già visto un po' di tempo fa che ha all'interno appunto airdrop quindi di blaster ma anche poi un rilascio tramite tramite blast vero e proprio l'unica cosa che c'è in questo momento a fare sono gli swap cioè scambiare semplicemente scambiare c'è la parte delle pools dove c'è usdb v eth però personalmente ho preferito non farlo e mantenermi soltanto sul dex quindi sui volumi del dex l'unica cosa che ho fatto qua è usdb v eth e ci ho messo proprio pochissimo tipo 10 dollari 10 dollari fine perché la liquidità comunque non è tanta scusatemi la liquidità non è tanta quindi ho preferito stare un po' più tranquillo più basso avere lì comunque un qualcosa per averlo utilizzato punto fine stop e poi faccio i classici volumi di scambio sullo swap e basta successivamente quello che penso invece sia molto interessante che lo abbiamo visto da tempo 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 fa è sim futures che sim futures è la stessa cosa che stiamo vedendo su anzi che abbiamo visto su aevo quindi andare a fare trade quindi trading vero e proprio sui vari payer quindi in questo caso da scegliere quello che quello che si vuole tutto su sdb ovviamente come vedete il prezzo anche qua c'è di mezzo pit quindi attenzione perché qua secondo me con pit di mezzo ci possono essere un po' di un po' di letture ecco quindi secondo me è importante però stessa identica cosa quindi andare a tradare fare trading come aevo apri apri chiudi aprire tenere aperto comunque qualche minuto e chiudere come anche in aevo io ho messo in earn quindi in earn io sono andato a siccome comunque avevo posizionato un po' di di eth io sono andato a prendere posizionamento su questi quindi sui come si chiama sulle pull sostanzialmente qua ce ne sono davvero tantissime e ci sono anche i points quindi ci sono questi points qua di sim futures che poi serviranno per accumulare altri punti io personalmente in questo caso ho preferito buttarle qua dentro per prendere diciamo due piccioni con una fava e quindi sempre poco perché sono sempre dentro a tv qua ho messo 20-20 una cosa del genere ma niente di più ovviamente mi concentro principalmente sul trade per fare qualche operazione con leva magari un pochettino alta delle cose molto semplici e poi chiudere che sia in leggero profitto che sia in leggero perdita la chiudo sempre per fare il volume fine cioè questa è la mia visione in questo momento su sim futures e la stessa cosa che sto facendo è anche su ambient ambient che l'abbiamo già visto ragazzi ovviamente qua tra l'altro potete utilizzare più reti perché c'è scroll canto e blast ovviamente in questo caso lo sto facendo sia su scroll sia su blast e lo utilizzo qua quindi stessa cosa cosa vado a fare vado a fare i trade sostanzialmente quindi faccio lo swap semplice swap classico come vedete anche qua che c'è c'è la parte di trade appunto come detto qua potete andare a vedere poi tutte le vostre le vostre transaction che escono fuori comunque quelle generali però secondo me è interessante per creare altri altri volumi e stessa cosa anche per il discorso delle pull però poco cioè davvero comunque cosa di molto semplice senza andare a a dedicarci troppa troppa liquidità io questa è la mia strategia ovviamente che sto facendo su blast cose molto semplici sono i principali non mi sto disperdendo molto su su altri anche se comunque non sono pochi però niente più ecco questo è il classico volume comunque da fare sull'ecosistema che stiamo vedendo comunque da tempo sostanzialmente quindi questo è quello che sto facendo fatemi sapere voi che cosa state facendo se state seguendo questi progetti oppure state facendo qualcos'altro lasciatelo nei commenti così che ci confrontiamo abbiamo visto un altro progetto che è molto interessante dal punto di vista di raccolta comunque fondi di partecipazione e specialmente di sviluppo c'è da dire che rispetto magari a un mood come abbiamo visto è molto più farmato blaster rispetto a mood e quindi questa cosa potrebbe essere più svantaggiosa dal punto di vista proprio di diciamo ritorno a livello di punti perché più gente farmo ovviamente un progetto minore potrebbero essere ovviamente le rewards che andremo a prendere sulla nostra interazione perché c'è sempre qualcuno che ha magari dei capitali molto più grandi e che quindi ci può rubare un po' di liquidità però teniamo conto che il nostro capitale viene sempre usato per generare comunque scambi le fees sono comunque buone e quindi possiamo riuscire ad organizzarci e poter avere uno spending a livello di fees buono e comunque con un rischio rendimento molto interessante se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati per rimanere sempre